Aveva 53 anni l'autista della betoniera che ha perso la vita schiacciato dall'automezzo ribaltatosi in una strada di campagna nel comune di Bisaccia. L'operaio originario di Cerignola era residente a Santa Margherita di Savoia ma domiciliato ad Ariano Irpino. Avrebbe dovuto consegnare il carico di cemento ad un cantiere di contrada Ischitella. L'incidente, che non ha coinvolto altri automezzi, è avvenuto poco prima delle 10 di questa mattina. Per causa in corso di accertamento non si esclude anche un possibile malore dell'autista. Il pesante automezzo si è inclinato ed è finito nei campi che costiggiano la strada. I vigili del fuoco accorsi sul posto insieme ai carabinieri lo hanno estratto dalle lamiere nelle quali era rimasto incastrato e allertato l'eliambulanza del 118 per trasferirlo in ospedale. I sanitari giunti sul posto con un'ambulanza dell'emergenza territoriale hanno tentato nel frattempo di rianimarlo ma i tentativi sono risultati purtroppo vani a causa delle gravi ferite riportate agli organi interni, particolarmente problematici soccorsi a causa delle comunicazioni resi difficili dalla zona non coperta dalla rete telefonica mobile. Sul posto, insieme al magistrato di turno della procura di benemento competente per territorio, il medico legale ha effettuato un primo esame esterno sul corpo della vittima.